Il generale di brigata Rosario Castello, comandante della legione Carabinieri Sicilia, nel pomeriggio di ieri ha visitato il comando provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta. È stata l'occasione per incontrare gli ufficiali e i comandanti di stazione che operano nella provincia, i delegati della rappresentanza militare e anche le articolazioni operative del comando provinciale e del nucleo ispettorato del lavoro. L'incontro è stato utile non solo per tracciare un bilancio dei risultati conseguiti in termini di contrasto alla criminalità organizzata, ma anche e soprattutto per esaminare accuratamente all'attuale situazione della pubblica sicurezza nell'ambito della provincia, con particolare riferimento al comprensorio gelese, area per la quale è stato disposto un ulteriore potenziamento dell'attività di controllo, anche con il supporto delle squadre di intervento operativo del XII Reggimento dei Carabinieri Sicilia di Palermo, allo scopo di garantire una presenza dell'arma ancora più efficace e rassicurante. Nel corso della visita, infine, il generale Castello ha rivolto al comandante provinciale il colonnello Vincenzo Pascale il proprio apprezzamento per l'impegno quotidianamente profuso dei Carabinieri nel controllo del territorio, sottolineando ancora una volta l'importanza delle stazioni dei Carabinieri come prezioso punto di riferimento istituzionale per la comunità, anche alle più piccole.